bella a tutti i ragazzi allora oggi è una situazione un po strana già sentite dai rumori e arriva arrivato un nuovo amico è lui e ciclo praticamente è il nostro nuovo robottino e c'è russia che lo sta guardando malissimo palesemente guardalo che carino c'è russia che lo sta guardando e sta dicendo ma sto coso da dove sbuca vede questa attività sospetta che si muove per la mia stanza e sarà dicendo o ma che cavolo è sto coso che gira e niente questa è la situazione c'è russia che lo guarda malissimo ciao